Ciao ragazzi e bentornati qui su Blender. Allora, un po' di tempo fa ho fatto uscire sul mio Instagram e ho pubblicato anche sulla pagina di Blender Italia questo piccolo progetto per Halloween, in ritardo perché l'ho fatto uscire il primo di novembre. Comunque, questa era la mia zucchetta di Halloween. È stato un progetto molto apprezzato anche sulla pagina di Blender Italia, dove comunque ci sono dei mostri sacri. La cosa mi ha fatto molto molto piacere. La verità è che non credevo che anche sul mio Instagram venisse fuori gente interessata e appassionata così tanto. Addirittura mi hanno chiesto di fare una specie di tutorial per spiegare un po' meglio i passaggi. Io ho fatto un video, che era un video di un minuto, con lo speed modeling di questa zucca. Però c'è stato più di un utente sia su Blender Italia sia su Instagram che mi ha chiesto un tutorial. Quindi, nonostante io non sia assolutamente in grado di insegnare Blender perché sono totalmente principiante, vi spiego non come si modella in Blender, ma vi spiego come ho fatto io la mia zucca. È l'unica cosa simile a un tutorial che posso fare. Non pensate di imparare Blender da questo video perché no, non funziona così. Magari sarebbe carino, ma no. Però potrete imparare a fare una zucca alla Sinergo. Mettiamola così. Allora, chiudiamo questo progetto e facciamo un nuovo. E qui abbiamo il nostro cubotto di Blender. Ora, lo so che è un meme in Blender. Apri Blender, cancella il cubo e metti un altro cubo. Noi non metteremo un altro cubo, noi metteremo una sfera. La prima cosa da fare quando si vuole creare qualcosa è cercare di importare un solido che più o meno ci somigli già, insomma. Cioè, se voglio fare un cappello a cilindro e io importo una sfera e sono coglione, ma proprio con l'attestato, no? Devo caricarmi qualcosa che mi serva da subito. Quindi, maiuscolo più A e mi si apre il menu di importazione di diverse mesh. E poi importo una sfera. Che sfera? Icosphere o UvSphere? Allora, UvSphere ovviamente. Però siccome è una specie di tutorial, vi spiego perché la UvSphere. Allora, la Icosphere è questa sfera qui. Guardiamo un po' com'è fatta. Allora, è una sfera che presenta dei triangoli. Ok. Ed è una sfera che sostanzialmente ha la superficie più o meno tutta quanta regolare con questi triangoli. Diciamo che un lato vale l'altro e... Boh, è una sfera. Ok. Ho appena attivato l'ombreggiatura morbida, perché con l'ombreggiatura piatta, no? Noi riconosciamo ogni singolo poligono. Se attiviamo l'ombreggiatura morbida, Blender dice, ok, la forma è sferica, te la faccio vedere come se fosse una sfera. Poi di lato, cazzi tuoi, si vede che è tutta seghettata, sostanzialmente. Ok. A noi però questa sfera qui, una sfera di questo tipo, non tanto serve. Perché a noi serve una zucca divisa in spicchi. La zucca tipica di Halloween, Jack o Lantern, è una roba divisa in spicchi, come se fosse un mandarancio gigantesco, no? E da qui noi potremmo ricavare degli spicchi, sì, ma... Cioè, dovremmo fare un lavoro della madonna, dovremmo addensare questa cosa poligonalmente parlando, poi dovremmo scolpire questa palla nel nostro sculpting tool, quindi dovremmo andare ad aggiungere geometria scolpendola sulla superficie. Sarebbe un bordello, quindi non ha senso. Noi vogliamo lavorare pulito, anche perché questa zucca che stiamo per fare è una zucca intesa quasi come un asset da videogioco, una cosa semplice, no? Quindi non ci dobbiamo complicare la vita e dobbiamo caricarci l'altra sfera, la UV sphere. O... qual è la differenza? Che questa è una superficie diversa, divisa orizzontalmente e verticalmente da questi segmenti. Mo, quanti segmenti? Tu dici, vabbè, carico la sfera, la sfera è questa, me la tengo così. No, in realtà, prima di modificarla, perché se la modifichi anche di un pelo, perché questa cosa non la puoi più fare, possiamo decidere, qui in basso, andando ad aprire questo menu, come vogliamo che sia fatta questa sfera. In questo momento ci dice che ci sono 16 anelli e 32 segmenti. I segmenti sono praticamente i segmenti in cui è divisa la circonferenza della nostra sfera. In questo momento sono 32. Bisogna fare semplicemente un conto, no? Così bisogna immaginare la situazione. Allora, io voglio che la mia zucca abbia, diciamo, sei spicchi, ok? Quindi, se io voglio un minimo di dettaglio, ogni spicchio non può avere un solo segmento, perché sennò rimane una palla, ok? Voglio la bombatura dello spicchio. Quindi, mi serve almeno un segmento che sia, diciamo così, all'infuori, e poi i due segmenti laterali che facciano, diciamo così, una rientranza, prima di arrivare al prossimo gruppo di tre segmenti che vengano fuori, rientranza, vengano fuori, rientranza. Quindi, se io faccio 18 segmenti, quello che ottengo è che posso avere sei spicchi, ognuno da tre segmenti, ok? Questa è l'idea. Andiamo in Edit Mode, premendo Tab, e adesso ci possiamo permettere di selezionare i nostri spicchi. Allora, premendo il tasto 1, dal tastierino numerico, noi guardiamo la situazione di fronte. E questa cosa è importante perché così sappiamo da quale segmento iniziare. Sappiamo che, iniziando dal segmento centrale, poi abbiamo una zucca che è, diciamo così, speculare quando la guardiamo di fronte. Perché se noi iniziamo a selezionare da questo segmento qui di lato, e poi non ci troviamo, perché ne faccio tre, vedete? E già diventa asimmetrica la situazione. Già non mi trovo. Invece, se io inizio da questo segmento centrale, poi tutto quanto sarà perfettamente speculare. Ed è una cosa utile perché in Blender si può usare la specularità per evitare di far casino, per evitare di fare il doppio della fatica modellando. No, modelli il lato destro, stai modellando anche il lato sinistro. Quindi, tutte le volte che mi è possibile, io cerco di mantenermi abbastanza simmetrico con la modellazione, perché così poi lo vedrete. Insomma, poi si fanno un paio di cosine e capirete di cosa sto parlando. Comunque, andiamo a selezionare i nostri segmenti. Allora, ci servono sei spicchi. Quindi ogni tre segmenti andiamo a selezionare così. Come si fa questa operazione? Allora, se io seleziono solo questo, ok, mi seleziono soltanto un segmentino, dovrei stare a fare così. Eh no? Guardate quanto tempo ci vuole, è un po' una rottura di bolas. No? All'inizio tutti fanno così. Poi scoprono il meraviglioso comando Alt. Tenendo premuto Alt, si può selezionare il segmento intero. Cioè, ti segue quello che è il taglio, no? Verticale della sfera. Se lo faccio però, mi deseleziona tutto il resto. Quindi devo tenere premuto sempre Shift, che significa aggiungi la selezione, più Alt, che significa fammi tutta la linea. Quindi, Shift più Alt, Shift più Alt, Shift più Alt. Ok, ho sbagliato. Eh, certo che ho sbagliato qualcosa. Mortacci sua. Qui. Eh, tu non dovevi... Qua bisogna fare ogni tre, non ogni due. Devi morire. Blender, ok. E adesso è tutto perfetto. Ok. Ogni tre, ogni tre, ogni tre e ogni tre. Mo, potremmo fare due cose. Cioè, nel senso. O possiamo spingere in fuori i nostri spicchi, oppure molto più semplicemente, visto che abbiamo selezionato questi punti specifici qui, questi segmenti specifici, possiamo premere S di scala e far rientrare questa nostra selezione. Così. Mo, abbiamo generato dei mostri, me ne rendo conto. I mostri sono queste rientranze in alto e in basso. Come si fa a metterci una pezza? È molto semplice. Sempre con la scala, quindi premendo S, noi andiamo a bloccare l'ingrandimento solo sull'asse verticale. Quindi premiamo Z. La cosa figa di Blender è che quando tu premi un comando, tipo Scala, il comando si, diciamo così, si attiva, semplicemente, e poi con il mouse tu puoi modificare, no? e puoi fare la stessa cosa con gli assi, quindi X, Y e Z. Se premi il comando di Scala e poi premi un'asse, Blender capisce che deve scalare lungo quell'asse. Ok? In questo caso, quando io vado a fare Scala, mi scalerà solo sull'asse verticale. Vedete? E quindi io che ho fatto? Ho rimpicciolito la mia selezione, facendola rientrare, e poi, sempre con il comando di Scala, ma bloccato sull'asse verticale, ho fatto questo aggiustamento e ho riportato la mia sfera a una forma sferica. Premiamo 1, quindi la visione frontale. Ricordatevi di premere 1 sul tastierino numerico. Se premi 7, c'è la visione dall'alto, se premi 3, c'è la visione di lato, insomma, funziona così. Il tastierino numerico serve per fare questa operazione. Allora, una volta che noi abbiamo questa visione, di visualizzazione, di cosa ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che la nostra zucca tutto sembra, forché è una zucca, sembra una palla con delle rientranze. Perché la zucca non è perfettamente sferica, perlomeno. Sì, ne ho viste di zucca, è proprio tonde, 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 d'accordo, però normalmente, se pensiamo a Jack O' Lantern, noi pensiamo a una roba schiacciata. E allora, facciamo così. Premiamo A, e quindi selezioniamo tutto. A sta per All, ovviamente. Premiamo di nuovo il comando Scala, come prima, e blocchiamo sull'asse verticale. Stavolta non stiamo selezionando i segmenti specifici, ma stiamo selezionando tutto. Bloccare la scala sull'asse verticale significa che tutta la struttura si andrà a rimpicciolire in questo modo. Quindi soltanto bloccato sull'asse zero. Ed ecco che abbiamo i nostri spicchi con una forma più o meno zuccosa e tutto funziona. Ok? Mo, c'è una cosa che possiamo fare per andare a migliorare ulteriormente la situazione. La cosa è questa. Sempre con la selezione dei nostri edges. Andiamoci a riselezionare tutta questa roba qui. Ok. Ce li abbiamo. Adesso andiamo a deselezionare premendo il tasto Control questa parte al centro, cioè questi segmenti qui. Questi ce li vogliamo togliere dalla selezione. Perché? Perché stiamo per fare un Bevel. Il Bevel sostanzialmente è una funzione di Blender che è molto molto utile che ti permette di suddividere in un certo modo un singolo segmento. Tenendo premuto Control e il tasto B si attiva il Bevel. Ora dobbiamo solo muovere il mouse e succede questo. Vedete? ho sdoppiato questo segmento creando più geometria. Solo qui dove mi serve. Perché? Perché io nell'incavo ci voglio un bel po' di dettaglio. Cioè l'incavo deve essere abbastanza netto altrimenti si nota poco. Sarebbe troppo morbido. Ok. E, cosa importante, possiamo aumentare la geometria con la rotella del mouse. cioè più andiamo avanti con la rotella vedete? Più si generano segmenti. Questo è un progetto low poly diciamo molto da videogame e quindi non voglio fare cose troppo complesse. Quindi un solo segmento va bene. Controlliamo una cosa cioè se abbiamo sì, vedete? Abbiamo una linea questa qui che spacca lungo tutta la zucca. Perché è importante questa cosa qui? Perché poi dobbiamo togliere metà della zucca e quindi è comodo che ci sia una linea che la divide perfettamente a metà. Va bene. Abbiamo fatto questo lavoro abbiamo un po' inasprito queste asperità all'interno della zucca. io direi di aggiungere un po' di dettaglio perché sì ormai la zucca sembra quasi una zucca anche se attiviamo lo smooth shading. Beh, più o meno ci sia. Questa è proprio una zucca di Animal Crossing. Diciamo proprio una cosa un po' disgraziatella. Però a noi serve un pochino più di dettaglio di così perché la vogliamo fare proprio bella bella. Ok? Allora andiamo sempre su questa zucca e da qui dove ci sono le proprietà dei modificatori andiamo a cliccare e aggiungiamo un modificatore. Il nostro modificatore sarà questo il Subdivision Surface Oh vedete che la zucca adesso si è si è resa un po' più cazzutella come come dettagli Oh che cosa succede? Questo è un modificatore che sostanzialmente come potete vedere qui ha diversi livelli di di suddivisione dei vari poligoni cioè un poligono viene suddiviso quante volte te vai a a indicare ed è una cosa esponenziale cioè più volte tu vai a suddividere più la cosa si fa si fa intensa sia come numero di poligoni sia come proprio definizione dell'intera figura mo per farvi vedere meglio ma io la faccio sempre questa cosa perché odio questo tipo di visualizzazione qui in cui c'è la zucca super poligonosa sotto e fuori c'è questa gabbia che rappresenta sostanzialmente la vecchia zucca io di solito premo questo tasto qui che è long cage e fa attaccare la visualizzazione della vecchia zucca sulla nuova geometria geometria che al momento non esiste viene semplicemente visualizzata ma finché noi non applichiamo effettivamente questo modificatore resta tutto in sospeso Blender non conta quei poligoni in più cioè ci sono li considera nel mostrarti la forma però tu puoi toglierli e metterli a piacimento se a un certo punto del progetto dico no voglio più poligoni vado a aumentare la conta Blender lo fa però io rimarrei con una suddivisione e anche in render così poi quando renderizziamo abbiamo la stessa identica lo stesso identico aspetto qui abbiamo la divisione qui nella viewport dove noi vediamo e poi quando renderizziamo tu puoi decidere di avere una maggior suddivisione però noi lasciamo uno e uno non vogliamo fare un casino qui di ogni di ogni poligono ne vengono fuori quattro con un livello di suddivisione con due livelli di suddivisione ogni poligono vengono fuori 16 quindi è proprio esponenziale questa cosa però io direi che va bene già così è una bella zucchetta che cosa hanno le zucche? le zucche hanno una rientranza nella parte superiore e nella parte inferiore cambiamo lo strumento di selezione prendiamo sto cerchio e ci andiamo a selezionare tutte quante le faccette sulla nostra zucca poi tenendo attivo l'editing proporzionale andiamo ad abbassare sull'asse z quindi premiamo g che significa grab acchiappa poi premiamo z diciamo acchiappa esposta sull'asse z la parte centrale perché ho attivato l'editing proporzionale vi faccio vedere cosa succede se non lo attivo va lo tengo disattivato g sposto sull'asse ecco succede questa cosa qui sostanzialmente non ho controllo sull'area di influenza del mio movimento quando mi muovo i poligoni coinvolti sono questi e basta invece io vorrei poter controllare questa cosa attivando l'editing proporzionale premo g z e poi con la rotellina del mouse mi scelgo io vedete di quanto voglio che la mia la mia azione influisca sul resto della mesh in questo caso è il minimo sindacale quello che voglio nella parte superiore così e poi nella parte inferiore forse un pochetto di più ok eh simpatichino simpatichino bellino la zucca più o meno c'è la sua forma c'è però c'è una cosa che io farei allora ho visto che le zucche tendono a non essere totalmente arrotondate diciamo che nella parte centrale mantengono diciamo così una una certa rigidità quindi quindi io mi seleziono queste facce qui al centro ho attivato ovviamente la la visuale x-ray che mi permette di vedere anche le facce dietro e quindi di selezionarle vedete ho selezionato tutto altrimenti vi faccio vedere questo è un tutorial mi devo ricordare che è un tutorial quindi vi devo spiegare le cose bene come vorrei che fossero state spiegate a me ok se io adesso seleziono queste facce qui da qua senza attivare l'x-ray quello che ottengo è questo che poi sul retro non seleziono una ceppa di minchia invece io così vedete che vedo tutto sto selezionando sì le facce davanti a me ma pure tutte le altre questa è più o meno l'idea ok togliamo l'editing proporzionale non ce ne frega niente adesso e facciamo scala sulla se ecco qua così un pochino più rigida applichiamo anche l'editing proporzionale vedete ci portiamo su anche un po' del resto della zucca oh adesso sì adesso sì che abbiamo zuccato per bene possiamo ancora correggere un po' la forma per esempio non lo so rispetto al basso la parte in alto vedete ho fatto la selezione di tutto il giretto così facciamo un piccolo scala ok abbiamo ottenuto questo ammorbidimento e va bene così direi che la forma della nostra zucca c'è questi questi poligoni qui hanno anche creato queste belle asperità che sembrano davvero essere parte di una zucca vera vera e propria e non ci resta che creare un materiale più o meno color zucca poi ci lavoreremo sui materiali dopo però adesso dobbiamo concentrarci un attimino su su queste altre cose mettiamo un po' di luce in questa scena e buonanotte al secchio ci tocca fare occhi e bocca della nostra zucca quindi per prima cosa dobbiamo fare sì che questa roba qui sia perfettamente lavorabile e non vogliamo incasinarci più di tanto quello che vogliamo fare è in effetti usare la modalità oggetto cliccare sulla zucca e applicare il nostro modificatore cioè adesso il modificatore è attivo e io lo posso disattivare in qualsiasi momento vedete posso tornare alla sua visualizzazione a bassa densità poligonale oppure posso vedete attivare quella più morbida però il modificatore non sta in effetti trasformando la nostra mesh la mesh sta lì è lui che ce lo fa vedere diverso questo oggetto io adesso voglio applicare il modificatore applicandolo non c'è più vedete è sparito dalla lista dei modificatori perché una volta applicato il modificatore smette di lavorare si disattiva e se noi andiamo a cliccare sulla modalità edit vedete che la zucca ha una densità poligonale ben diversa molto molto più densa vedete e questi sono tutti quanti i poligoni veri adesso sono reali ok il nostro oggetto adesso è è un oggetto bene che cosa dobbiamo andare a fare adesso dobbiamo andare a disegnare occhi e bocca della nostra zucca io nel mio progetto ho fatto una cosa cioè mi sono andato a a dividere la zucca a metà per poi lavorare solo su una metà di questa zucca per poi specchiare tutto e dover lavorare soltanto su uno dei lati no? è quello che faremo anche qui ma potete pure non farlo cioè nel senso se non volete gli occhi perfettamente simmetrici se non volete la bocca perfettamente simmetrica potete semplicemente lasciare la zucca così com'è e lavorare come meglio credete insomma non è quello il problema però anche diciamo così prendendo spunto per farvi vedere un'altra funzione io adesso specchio ok? lavoro esattamente come ho lavorato nello speed modeling che alcuni di voi hanno visto quindi mi vado a selezionare la mia visuale dall'alto attivo la mia visuale x-ray per vedere attraverso la mia zucca e poi con il tasto 1 non del tastierino numerico ma proprio il tasto 1 mi vado ad attivare la selezione dei vertici qui devo stare molto molto attento zoom anche un attimino di più e mi devo selezionare soltanto i vertici sul lato sinistro lascio stare i vertici sull'asse centrale quelli non li seleziono un vertice a sinistra dell'asse centrale da lì in poi seleziono ok? infatti vedete mi avvicino così vi spiego meglio ok? la parte centrale dei vertici questa qui non la selezioniamo selezioniamo da lì in poi togliamo l'x-ray e adesso vi faccio vedere premiamo x che vuol dire elimina elimina vertici eliminando tutti quei vertici noi otteniamo una zucca a metà ok? qui c'è stato un piccolo problema di selezione vedete sono rimaste delle faccette ma noi ce le cancelliamo amabilmente sia sopra che sotto non so come mi siano scappate queste robe ma vabbè non fa niente facciamo x faccette via ok? abbiamo una selezione pulita ora con questa mezza zucca noi dobbiamo semplicemente ricreare l'altra metà che sembra un po' l'arte dei pazzi prendi la zucca dividi la zucca ricrea la zucca e in realtà vabbè i vantaggi ve li ho spiegati quali sono aggiungiamo un modificatore mirror e siccome è già impostato sull'asse x di default noi abbiamo la nostra zucca già specchiata per visualizzare meglio i vari poligoni sulla zucca mi vado ad attivare questa visualizzazione esattamente come prima on cage e adesso la zucca è esattamente come prima c'è una caratteristica però che questa zucca ha guardate se io prendo questo punto e lo sposto io ho creato un non voglio dire cosa ho creato perché poi rischio di essere volgare ho creato un'apertura nella zucca perché perché queste due metà non condividono davvero una mesh sono come semplicemente il riflesso l'una dell'altra se noi invece attiviamo questa opzione il clipping diciamo a blender di considerare questi punti che ci sono nella parte centrale nella parte condivisa dei due lati del mirror diciamo questi punti qui devi imparentarmeli in qualche modo far finta che siano davvero parte della stessa mesh e infatti adesso noi possiamo andare a creare la nostra vulva ma senza che si apra la mesh adesso è come se fosse una mesh fatta e finita però con questa caratteristica cioè la caratteristica che quello che faccio da un lato faccio dall'altro perché c'è la specchiatura ok fatto questo la nostra trucca è finita abbiamo messo le corna scherzo le corna non servono adesso more allora quello che dobbiamo fare adesso è andarci a disegnare occhi e bocca come vi avevo detto alla fine dello scorso blender play barra tutorial barra che cazzo stiamo facendo oggi non lo so ok premiamo il tasto 1 del tastierino numerico e andiamo in visione frontale a così ok ora dobbiamo prendere uno strumento del demonio che è uno strumento particolarmente pericoloso ovvero il knife il coltello premiamo k vedete che si genera questo coltello mo il coltello funziona così tu prendi un punto premi e lasci non devi tenere premuto a questo punto ti si genera questa roba qui che è una stronzissima linea ok una linea sulla quale noi possiamo andare a lavorare allora dobbiamo fare una mesh abbastanza pulita e il nostro taglio deve essere abbastanza pulito che significa pulito? significa che per quanto possibile dobbiamo sfruttare un po' i punti che ci sono ai quali comunque il coltello vedete si aggancia automaticamente quindi non è una cosa particolarmente difficile questo sarà il primo punto premiamo invio e mi crea il taglio premiamo coltello di nuovo andiamo magari qui o qui forse qua sopra una bella zucca con gli occhioni grandi e manga creiamo questo punto e poi una volta creato il punto vabbè senza che facciamo sempre invio che è una cosa da da matti andiamo magari a a sceglierci questo punto qui no premiamo invio così perfetto quando vogliamo sfruttare dei segmenti che già esistono evitiamo di tagliarli col coltello perché creeremo soltanto confusione un altro segmentino qui ok e abbiamo questi che sono sostanzialmente gli occhi della nostra zucca gli occhi sono questi eh cioè tutta questa zona che abbiamo ritagliato e va bene io sono abbastanza soddisfatto poi poi andiamo a bucare andiamo a fare tutta una serie di cosine simpatiche però questi sono i nostri occhi oh cosa dobbiamo evitare quando facciamo questa questa roba dobbiamo evitare i cosiddetti endgons gli endgons sono dei poligoni con più di quattro vertici ok ehm i poligoni con tre vertici sono tollerabili in una situazione come questa dove io non devo animare la zucca però quelli con più di quattro vertici e l'ho scoperto a mie spese facendo i miei primi progetti su blender creano sempre problemi di shading quindi avrai delle delle ombre strane che fanno cose strane mistero della fede ok allora andiamo a creare la nostra bocca adesso partiamo da qui tagliamo 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 anche così tagliamo così e tagliamo così questa parte è abbastanza ok partiamo da qui e facciamo un taglio qua in basso così adesso la facciamo aprire un po' di più nella parte nella parte bassa ok forse è meglio così e così controlliamo bene che cosa abbiamo fatto ok non abbiamo fatto particolari danni non ci sono angles sono tutti triangoli o quadrati e una volta fatta questa operazione qui quello che ci resta da fare è sostanzialmente applicare il nostro mirror perché adesso dobbiamo lavorare sulla mesh come se fosse tutta vera non possiamo più permetterci di specchiare cose a cazzo di cane selezioniamo questi nostri poligoni così tutta la zona che abbiamo ritagliato o poi se vi scappa un angle cercate di risolvere nel senso tagliate via un segmento che non serve ma comunque la cosa migliore sarebbe rimanere con la stessa identica topologia nel mio speed modeling io ho anche mosso dei vertici l'ho fatto a mio rischio e pericolo state calmini fate le cose semplici se avete bisogno di fare un'operazione di queste in maniera molto precisa guardatevi dei tutorial di chi veramente sa cosa deve fare adesso questo è un progetto semplice ok visto che non ho più la mia specchiatura devo fare questa operazione di selezione da entrambi i lati capite quanto è comodo avere la specchiatura che non ti devi stare a preoccupare di fare diecimila volte la stessa cosa ok questo è tutto queste facce che abbiamo selezionato adesso le andiamo a togliere quindi premiamo il tasto x delete faces oh beh dai carina tutto sommato è carina questa questa nostra lanterna allora mo lo vedete da soli no la zucca è è inconsistente cioè nel senso sembra fatta di carta velina invece noi vogliamo una zucca che abbia un bello spessore che abbia pure la sua bella polpa all'interno quindi questa cosa come se fa? se fa così allora si seleziona tutto premendo A ok e poi tenendo attiva la modalità facce attenzione non questa non questa ma facce quindi il tasto 3 su blender uno selezioni i vertici due selezioni i segmenti e tre selezioni le facce ok quindi tenendo attiva la modalità facce selezioniamo tutto poi col destro facciamo estrudi facce lungo le normali le normali sono praticamente in maniera molto spicciola il verso di ognuna delle facce presenti nella struttura della mesh ogni poligono ha una una direzione diciamo così che è perpendicolare al piano del singolo poligono ecco estrudere lungo le normali significa che ogni poligono si andrà ad estrudere lungo la direzione più normale per lui infatti normale ok facciamo questo adesso stiamo gonfiando la nostra zucca e direi che così possa essere sufficiente ma abbiamo un piccolo problema come potete vedere vedete che qui c'è un casino abbiamo abbiamo incasinato queste cose allora allora estrudiamo le facce verso l'interno in modo tale da non creare quel problema è un problema annoso ok facendo questa cosa però estrudendo le facce verso l'interno noi abbiamo creato probabilmente un mostro lo sapete abbiamo creato un mostro perché abbiamo rivoltato la mesh come un guanto poi però vi faccio vedere come si risolve questa cosa ok notare questa è una cosa importantissima ragazzi perché se no perdete mezza giornata allora rifacciamo questa operazione estrudi lungo le normali ok verso l'interno ok buono così notate che adesso siccome ho estruso verso l'interno la parte esterna della zucca non è selezionata la parte interna sì vedete è tutto selezionato all'interno questa cosa è oro perché noi vogliamo dividere la zucca in due zone una zona e la zona esterna quindi arancione una zona e la zona interna e quindi color polpa con un materiale diverso tutto diverso sapete che gran rottura di coglioni che è selezionare tutti i poligoni interni stando attenti ai bordini a queste cose è follia ragazzi follia quindi adesso che facendo questa estrusione voi vi siete ritrovati tutta sta bella selezione interna della nostra zucca sfruttatela sfruttatela quindi andate sui materiali createvi subito un nuovo materiale e fate nuovo e ci mettete quel cazzo che vi pare insomma un giallo chiaro qualcosa insomma l'importante è che sia un altro materiale ok poi andiamo ad aumentare la selezione vedete la selezione adesso arriva praticamente qui al bordo interno ma noi vogliamo che anche queste parti scavate abbiano la polpa noi vogliamo lasciare la buccia diciamo così della zucca solo esternamente come si fa ad allargare questa selezione solo di un poligono è molto semplice si preme control e poi il tasto più del tastierino numerico se noi premessimo ancora andremo avanti però a noi basta questo questa è la selezione che vogliamo avere questa qui ok allora togliamo le parti che non ci interessano che è un'operazione molto molto breve molto semplice molto tranquilla prendiamo soltanto questi poligoni che sono stati selezionati in eccesso e li togliamo ma rispetto a selezionarsi tutta sta monnezza poligono per poligono è una è una pacchia ok ora che abbiamo creato il nuovo materiale e abbiamo selezionato tutta l'area di influenza clicchiamo su nuovo materiale e premiamo su assign e abbiamo assegnato due materiali senza fare tanta fatica anzi di fatica non ne abbiamo proprio fatta ah che meraviglia eh bello bello così allora andiamoci a a vedere un attimino questa scena con 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 il nostro motorino acceso e non è non è affatto male non è affatto male molto molto carina questa zucca non ci sono grossi problemi di visualizzazione nelle ombreggiature e quant'altro nel caso ci fossero potremmo sempre andare qui su questa su questa icona dove c'è scritto object data properties normals auto smooth e magari ci regoliamo anche i gradi dell'ombreggiatura in modo tale che sia tutto proprio preciso al millesimo ok un'altra cosa che possiamo fare per rendere la nostra zucca più bellina perché come vedete è un po' geometrica è andare qui e inserire un bevel un modificatore bevel al minimo proprio della della dimensione e aggiungendo dei dei segmenti extra in questo caso ne ho messi tre possiamo farne due quanti quanti ne vogliamo però diciamo che in linea di massima io per un videogioco lascerei tutto così non è non è un problema al massimo possiamo fare questo discorso qui di aggiungere un loop all'interno delle delle cavità così che dà un po' più di di geometria se vogliamo e permette magari alle ombreggiature di lavorare meglio poi ci permette magari di fare qualche piccola variante magari insomma di lavorare di più sulla sulla forma però raga per me già va benissimo così che ci frega adesso è tutta liscia perché non abbiamo materiali non abbiamo niente però è fatta diciamo che questa è la nostra zucca con occhi e bocca possiamo anche fare delle varianti mettendo il naso o facendo quello che ci pare veramente ragazzi quello che ci pare e tecnicamente se noi abbiamo la possibilità possiamo anche già cominciare a vedere come appare questa scena con con un piano per vedere se se c'è ombreggiatura sufficiente se le luci sono piazzate bene io perlomeno prima di mettermi a lavorare sui materiali un minimo di lavoro di questo tipo lo faccio perché poi ti dà più soddisfazione vedere il materiale che funziona con tutte le luci tutte le cosine però per ora diciamo che questo nostro secondo tutorial è fatto la zucca funziona abbiamo i nostri due materiali che è una cosa importantissima e forse potremmo iniziare un attimino a ragionare su quella che è la la divisione delle varie parti di questa di questa zucca perché sembrerà strano ma purtroppo qui adesso entriamo nella nella zona d'ombra nella cosa più sì secondo me più complicata in assoluto di tutto questo questo nostro progetto che è sostanzialmente l'unwrapping cioè questa zucca adesso è formata da diverse componenti ok e queste componenti sono sostanzialmente da da carta modellare tra virgolette perché se vogliamo disegnare su questa zucca dobbiamo poterlo fare tranquillamente ora io non voglio stare qui a perdere 50 anni a fare questa cosa che è difficile e soprattutto in questo caso perché è un oggetto che ha una parte esterna una parte interna è un po' un casino nero però possiamo fare una cosa e vedere se funziona perché magari vi semplifica un po' la vita allora come vedete io ho aperto quest'altra finestra nella quale vado a selezionarmi la visualizzazione dello UV Editor ok in questo momento se io seleziono tutte le facce della nostra zucca quello che appare è questo casino della madonna qui perché non ho fatto un unwrapping se io premo U e faccio uno Smart UV Project Blender si preoccupa di crearmi questo cioè mi apre la zucca pezzo per pezzo in modo tale che io possa poi andare a disegnare su queste facce tutto quello che mi serve allora adesso giusto per capirci per comprendere meglio la situazione facciamo un piccolo esempio prima di procedere oltre metterci a modellare tutti i rametti no come si chiamano quelle robe che escono dalle zucche quei cosi verdi che vengono fuori dalle zucche ok vi faccio capire più o meno quello che è il senso di quello che andremo a fare dopo quando andremo a fare le texture fatte bene della nostra zucca quando andremo a creare i materiali allora guardate qui se io seleziono una di queste facce qui sulla nostra mappatura UV si va a evidenziare no una faccia corrispondente per fare questo dovete attivare questo comando qui in alto a sinistra UVsync selection senza di questo noi non vediamo tutto invece così sappiamo dove si trova tutto c'è il cane che fa un casino nero con una palla maledetta ok vedete ora considerate che di solito una texture è spalmata su un'immagine facciamo conto un'immagine 2048 per 2048 ok questa faccia che ho selezionato potrà contare su i pixel che vedete qui immaginate che tutto il totale di questo quadrato sia 2048 e tu per fare questa zona hai a disposizione solo questo spazio che in pixel è poco veramente poco quindi non possiamo sperare di avere un dettaglio altissimo con una texture a bassa densità come 2048 diciamo che da una certa distanza farà anche una bella impressione ma se vogliamo una texture che anche da vicino sia molto molto definita dobbiamo per forza di cose aumentare la risoluzione però ci arriveremo dopo quando creeremo la nostra texture per il momento io direi di andare a fare una cosa molto molto carina che è il picciolo della nostra zucca finiamo prima tutta la fase di modellazione e poi ci mettiamo a fare i materiali e insomma tutti i vari contorni di questa nostra zucca allora importiamo una nuova mesh importiamo un piano allora a noi sostanzialmente sto piano non serve cosa ci serve di questo piano ci serve semplicemente avere i vertici di questo piano qui quindi entriamo in edit mode premiamo uno e in questo momento stiamo selezionando come potete vedere i vertici che è queste parti qui premiamo A cioè li selezioniamo tutti e ora vogliamo che tutti e quattro questi vertici vadano a convergere in un solo punto vogliamo un punto non vogliamo niente vogliamo soltanto un punto per far sì che questi quattro vertici si riuniscano al centro non dobbiamo fare altro che premere M che significa merge e mettiamo at center cioè diciamo a questi vertici ok unitevi tutti insieme appassionatamente in una danza orgiastica al centro di questa faccia e quello che avviene è esattamente questo cioè tutto tutto sparisce e rimane soltanto questo puntino ok visuale frontale premiamo G e spostiamo il nostro puntino in basso vedete possiamo muovere dove vogliamo questo è il punto di origine e in modalità edit non cambia soltanto in modalità object l'oggetto si muove insieme al punto mediano che tu scegli però diciamo che a noi adesso interessa spostare questo punto poco sotto la superficie della nostra zucca quando sparisce vuol dire che è sotto la zucca per vederlo dobbiamo attivare l'x-ray così non lo vediamo con l'x-ray lo vediamo ok andiamo in visuale frontale e adesso andiamo a disegnare in maniera proprio artistica il nostro picciolo possiamo fare anche un po' diverso da quello che ho fatto io intanto è un esempio per disegnare questo picciolo noi dobbiamo creare delle linee e queste linee partendo da un punto si creano estrudendo quindi premiamo E e muoviamo il nostro cursore senza premere da destro sinistro non fa niente una volta che premi E il comando è entrato quindi uno estrudiamo ancora estrudiamo ancora e estrudiamo ancora 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 e ancora facciamo un po' diverso magari dall'altro facciamo un po' più elaborato così ok a me interessa ovviamente dare un minimo di di movimento quindi inizio a lavorare così vedete sto usando sempre il proportional editing così tutto si muove in maniera un po' più armonica quando si tratta di spostare invece queste parti che sono sostanzialmente che vanno a a passare una sull'altra abbandono il proportional editing altrimenti rischio di spostare anche parti che non mi interessa spostare corretto? sto spostando tutto in maniera molto meccanica con i comandi meccanici se volete invece una mano in più a spostare questa roba andate su questo su questo selettore qui e attivate la visualizzazione del move praticamente ogni punto che prendiamo selezioniamo ci darà a disposizione le freccettine vedete non è male molti preferiscono fare così anche io in realtà preferisco fare così ma sono così pigro che piuttosto mi tengo tutto così com'è non siate pigri ragazzi non non ispiratevi a Siner fate le cose come veri esseri umani ok abbiamo fatto questo questo robo se andiamo in object mode premendo tab questo possiamo anche rimuovere non ci serve più adesso vedete che si è creato questo questo robo è anche abbastanza simpatichino che fa tutto un tutto un lavoro come facciamo a renderlo spesso come al solito ci viene in aiuto un modificatore andiamo sulla nostra chiave inglese aggiungiamo il modificatore che si chiama pepepepepe skin premete su skin e otterrete satana questo è chiaramente il demonio ok andiamo ad accendere il nostro x-ray perché io vorrei vedere che cosa sto cosa sto facendo ok mi piace averci sempre un attimino il il controllo andiamo in edit mode e abbiamo tutta la nostra robina ora esattamente come se fosse una serie di di edges una serie di di faces esattamente come se fosse quella roba lì selezioniamo tutto il nostro disegno in edit mode attenzione premendo A e poi scaliamo però non scaliamo con la S di scale questa è la cosa strana cioè ecco perché forse questo tutorial ad alcuni torna utile perché molti dal mio video velocizzato non avranno capito sto passaggio qui eppure io ci ho dovuto sbattere la testa più di una volta perché vedevo sti tutorial con la gente che faceva sto skin modifier e poi ridimensionava i punti io premevo S premevo S ma era la S di stronzo perché non succedeva niente in questo caso premiamo ctrl A ed ecco qui di colpo riusciamo a scalare in questo modo visto ok ora andiamo a ingrandire un po' di più il primo punto perché ogni punto può essere ingrandito a piacimento e andiamo a creare questo senso di di sfinamento no quindi più si va avanti più questi punti sono sottili fino ad arrivare alla punta che è proprio una punta ok questo è l'effetto che fa il nostro modificatore naturalmente adesso c'è ancora qualcosa che non va ma l'aggiustiamo subito tutto questo è un po' squadrettato in effetti il nostro come lo chiama il nostro ricciolo a coda di porco ha soltanto quattro vertici di base la base è quadrata e dobbiamo un attimino arricchire questa nostra base quindi aggiungiamo un altro modificatore mi raccomando dopo lo skin lo chiamiamo cioè lo chiamiamo si chiama subdivision surface che abbiamo già usato prima per la zucca e vedete cosa succede adesso è tutto perfettamente in ordine qui alla base possiamo andare a estrudere ancora un pochino qui possiamo andare a spostare vedete possiamo fare tutto quello che facciamo normalmente con una mesh spostare creare agganci vedete qui abbiamo appena creato questa roba qui poi poi vediamo un attimino come trattarla anche quella parte comunque questo è il nostro lavoro al momento stiamo semplicemente aggiustando tutta questa roba qui possiamo esasperarla possiamo renderla un pochino più timbartoniana no? vedete? quando la facciamo andare un pochino più in in maniera meccanica con queste curve un po' un po' cattivelle questo è molto timbartoniano vedete? questo in realtà lo potremmo pure dissolvere esatto perché avevamo questa parte perfettamente ok e direi che va molto molto bene 1 2 3 4 5 questi ce li spostiamo un po' più in qua esatto e magari questa puntina la spostiamo ancora un po' più in qua così anche questo direi di raddrizzarlo un po' se lo stile che vogliamo adottare è questa drittezza perfetto questo magari lo facciamo arretrare un pelo insieme a quest'altro punto così da armonizzare tutto il movimento di sto robo non era così nel mio primo progetto ma sto semplicemente improvvisando la teoria è sempre quella e la teoria è la seguente cioè ti sposti la roba punto per punto ridimensioni sta roba punto per punto e il risultato ovviamente è quello che state vedendo qui e già devo dire che non è malaccio ok bene fatto questo quello che dobbiamo fare è andarci a creare i rametti in basso i rametti che poi staranno giù però visto che abbiamo creato questo io direi di fare una roba una roba anche abbastanza abbastanza carina perché così iniziamo a ragionare su tutta l'impostazione del progetto applichiamo skin applichiamo la subdivision surface adesso questo è un oggetto totalmente poligonale non c'è nulla di procedurale e andiamo semplicemente a eliminare magari quei loop che non ci servono sempre pensando a una cosa tipo sarà un videogame magari meno poligoni è meglio ok allora selezioniamo per esempio questo loop vedete come aspettate che uso la matita così ci capiamo meglio vedete qui questa parte questa parte è perfettamente dritta da qui a qui è una linea retta praticamente questa roba qui possiamo anche cancellarla al momento non è così importante che ci sia ok quindi questo loop lo possiamo togliere e questo ragionamento lo possiamo fare con tutti i loop però lo andiamo a dissolvere non a cancellare destro dissolvi vedete non è cambiato molto nella nostra zucca stessa cosa vale per questi altri vertici qui non sono essenziali vedete e continuiamo così ragionando in questo modo questo vertice questo vertice scusatemi questi segmenti questo loop qui lo possiamo anche cancellare così dissolvi e viene anche un pochino più no? più stilizzato questo nostro rampicante tac dissolvi qui ce ne sono un botto che possiamo andare a sacrificare al demonio vedete così questo no mi serve perché questo giro qui questo loop qui mi serve perché è quello che fa fare la curva senza di lui le cose non andrebbero allo stesso modo questo questo e questo li possiamo dissolvere e qui ce n'è un fottio che possiamo proprio eliminare dalla faccia della terra senza fare una lira di danno 1,2,3,4,5,6,7 minchia raga ok vedete come è anche più bella e pulita la nostra mescetta oh qui in basso andiamoci pure a cancellare questa base quindi x facess ok e anche questa è fatta selezioniamo la base l'ingrandiamo un po' in modo tale da averci una mesh aperta dulcis in fondo destro shade smooth e l'ombreggiatura sarà perfettamente morbida anche se la densità poligonale come vedete è bassissima siamo assolutamente in in low poly qui si può addirittura esasperare il discorso low poly andando a a togliere queste facce qui quindi facciamo x facess poi selezionando questa roba qui andiamo a fare f di fill ok ci ritroviamo con semplicemente una sola faccetta anche se è un hang on però a noi non ce ne frega niente non saranno queste quattro facce a rovinare il progetto a renderlo cioè veramente non non è così che funziona per fortuna qui per esempio c'è un ingrossamento che possiamo un attimino correggere anche se il nostro modificatore l'abbiamo tolto comunque possiamo continuare a a modificare non con control a adesso è una mesh normale facciamo con la s andiamo a scalare molto molto banalmente vedete possiamo ammorbidire queste parti che magari adesso si sono un po' inasprite anche qui anche qui possiamo andare a vedete andiamo ad accompagnare un po' meglio quella che è la forma ok qui c'è un ingrossamento vedete qui magari possiamo possiamo andare a recuperare e anche qui possiamo andare a recuperare un po' di armonia nelle forme vabbè non ci stiamo a perdere troppo tempo tanto ci siamo ci siamo capiti potete aggiustare tutto quello che volete e ottimizzare la vostra mesh come come credete sia più opportuno a questo punto è importante creare i rametti in basso cioè quelli che sostanzialmente fungono da braccini della nostra zucca allora io l'altra volta ho fatto questo tipo di discorso cioè mi sono creato un plane anche in questo caso uguale a quello di prima questo primo plane lo chiamiamo picciolo io adesso sto facendo le cose molto disordinate zucca testa sto rinominando adesso perché se no braccio sinistro questo plane diventerà il nostro braccio sinistro allora facciamo così edit sempre come prima punti selezioniamo tutto m di merge at center ed ecco il nostro bravo punto andiamo a scala cioè a scala a spostare verso il basso e questo punto lo facciamo partire da qua sotto ok più o meno qui ora inquadrando tutto dall'alto noi dovremmo riuscire a vedere sempre con con questo sistema della della trasparenza si intende il percorso che fa la nostra il nostro puntino insomma vediamo così perfetto vedete purtroppo sull'arancione si vede poco ragazzi però proviamo a fare comunque una cosa visibile allora è qualcosa di meno dettagliato del nostro del nostro picciolo non fa parte della testa proprio ok e questo sarà uno dei dei braccini torniamo qui al al centro e andiamo a tirar fuori un altro braccetto che sarà volevo farli separati ma a sto punto facciamo tutti quanti insieme nella stessa mesh secondo me è caruccio anche così così e andiamo a farci anche il braccio destro ok la cosa veramente importante in questo caso è iniziare già a lavorare con con un minimo di movimento per questi per questi oggetti per esempio qui io andrei ad alzare cioè andrei a far passare questa parte del braccio sulla parte sottostante perché crea movimento perché fa sembrare molto più vivo il tutto ok la facciamo così questo se ne va un po' in su questo se ne va un po' in su attiviamo il proportional editing così cominciamo a far muovere più cose contemporaneamente in questo modo questa puntina la andiamo ad alzare così e va bene e facciamo la stessa cosa anche qua dietro magari qui abbondiamo con l'editing proporzionale ok direi che abbiamo la nostra tentacolatura come cazzo la vogliamo chiamare questa cosa ah ragazzi poniamo un attimo il caso che che vogliamo aggiungere dettaglio non è questo il caso non me ne frega niente va bene così però mettiamo caso che ne so questo segmento qui lo voglio dividere in due allora o fai il pazzo quindi prendi un coso lo avvicini poi avvicini tutto scali tutto quanto e poi fai un'estrusione e allora ti ottieni quello che vuoi oppure se non vuoi diventare completamente scemo fai questa roba cioè selezioni il tuo segmento voglio aggiungere un po' di dettaglio diciamo e premiamo ctrl r e mi crea sostanzialmente questo nuovo punto ctrl r è quello che si usa sostanzialmente per fare i loop quindi se lo facciamo per esempio qua sopra ok guardami ragazzi se ci perdo tempo ma so che magari queste cose sono se io premio ctrl r qui mi creo questo nuovo loop stessa cosa vale proprio per i singoli segmenti non solo per le mesh ok e quindi possiamo usare questo sistema del ctrl r per qualsiasi cosa anche per aggiungere più punti laddove sembra che ne abbiamo bisogno allora andiamo ad aggiungere il nostro skin modifier esattamente come prima andiamo in edit mode andiamo in trasparenza eccoci qua selezioniamo tutto questo quindi premiamo a come vi ho detto prima ctrl a e andiamo a rendere sicuramente più simpatichina tutta questa bella faccenda adesso magari selezioniamo tutto lo portiamo un pochino più giù così qui al centro dal punto centrale ci facciamo un'estrusione verso l'alto che ci entra proprio dentro la zucca così abbiamo una sorta di collo questa è una cosa che nel mio progetto non ho fatto ma si può evitare tranquillamente perché poi la zucca poggia qui non sarà neanche visibile però poi vediamo se sia il caso o meno di di farlo e andiamo ad aggiungere il subdivision surface adesso bisogna soltanto giocare di pazienza ingrandendo questi punti rendendoli un po' più un po' più massicci così così vedete non è nulla di trascendentale si tratta di fare una forma il quanto più naturale possibile non è difficile e anzi fatto con un po' di buona musica di sottofondo può diventare molto rilassante secondo me a me rilassa molto la modellazione in blender dico la verità all'inizio no perché dovevo fare attenzione a troppe cose troppi comandi che non funzionavano oddio perché non funziona perché non va era stressantissimo però una volta che impari qualche trucchetto inizia a ragionare no a divertirti anche anche inventandoti soluzioni diventa un gioco per me è un'attività molto molto ludica perché mi manca fare queste cose mi manca modellare dal vivo mi manca disegnare molto spesso e questo è un modo per tenermi attivo la testa per non invecchiare inesorabilmente e per avere qualche competenza che mi torna utile anche qualche volta quando faccio video perché il 3D a volte ti risolve certi problemi che che sembra incredibile veramente ok eh adesso vediamo se possiamo estrudere verso l'alto ok non ce n'è assolutamente bisogno ragazzi non è una cosa obbligatoria e soprattutto va va aggiustato poi tutto il tiro della scala di questi di questi punti ecco per armonizzare un po' a tutto il resto ma non è una cattiva idea innestare un altro po' di mesh vedete oh occhio quando fate queste operazioni quando innestate una mesh su questa con l'estrusione vedete a volte si generano delle forme particolari giocate con la scala per risolvere questi piccoli problemi ci saranno senza ombra di dubbio ci saranno basta avere pazienza non andate nel panico giocate con la scala di un punto dell'altro del punto precedente del punto successivo vedrete che tutto quanto andrà a posto allora anche questo bel braccino qui lo stiamo per terminare ecco qua andiamo a usare lo shade smooth dopo prima lo trasformiamo in una in una mesh magari perché se no non funziona dai ci siamo ci siamo è simpatichino caruccio cosa possiamo fare per per impreziosirlo allora contate che questa è una forma molto basilare ok abbiamo fatto tre tre tentacolini al nostro al nostro gecko lantern no ma in realtà si può impreziosire ancora questa è una cosa che io non ho fatto perché volevo concludere il progetto entro il primo novembre e postarlo di mattina ci ho lavorato un'oretta e mezza qui me la sto prendendo molto più con calma insieme a voi una cosa che possiamo fare che secondo me è molto molto caruccia è andare a fare questo intanzitutto adesso questo lo lascio ancora così cioè lo lascio ancora con il modificatore attivo voglio fare tutto ancora modificabile però mi vado a creare questo non lo chiamiamo più braccio sinistro perché alla fine li abbiamo messi tutti insieme braccia ok adesso creiamo un nuovo un nuovo oggetto sempre un plane guarda un po' lo portiamo qui e fai dei punti e premi e metti al centro ok e portiamo tutto quanto giù in basso in questo punto qui occhio ragazzi perché questa cosa può può essere un po' una svolta potrebbe essere un po' una svolta allora togliamo la testa della zucca perché non ci serve togliamo il picciolo perché non ci serve e andiamo a lavorare soltanto su questa roba qui portiamo il nostro oggettino qui in alto ok e adesso lo spostiamo proprio di fianco a questa specie di collo che abbiamo creato qui così ora con la santa pazienza perché è un'operazione di grande pazienza andiamo a portare giù estrudiamo verso il basso così estrudiamo ancora ancora vedete sto iniziando a muovermi in questo modo intorno al al rametto perché è molto semplice perché voglio fare una cosa che più timbartoniati così si muove si muore giù giù forse avete già capito ci vuole un botto di tempo proprio un fottio di tempo è una rottura di cazzo subatomica ma ma darà molta molta soddisfazione vedrete magari lo facciamo soltanto su questo braccio poi però se voi avete il tempo e la pazienza di farlo per bene e lo fate dappertutto fate una zucca mille volte meglio della mia ecco per esempio in questo punto io faccio ctrl r e trovo questo nuovo questo nuovo punto che non è affatto male visto nulla di nulla di complicato però abbiamo ottenuto il risultato che volevamo cioè rendere più modellabile tutta sta roba qui allora questa roba qui indovinate che facciamo skin subdivision surface edit selezioniamo tutto e andiamo a scalare è così bello quando le cose funzionano vero? è così soddisfacente bene allora questo piccolo rampicante qui in realtà può essere ecco qui un po' possiamo rigonfiare alcune parti per dare questa sensazione di di organicità ok qui possiamo salire un attimo gonfiamo 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 qui in alto gonfiamo qui anche per farlo aderire un po' meglio alla mesh sottostante vedete oh e a posto è molto molto figo poi è chiaro che se volete fare proprio un tipo filo d'erba una cosa sottilissima la potete stringere e buonanotte così è proprio un un'aliana una roba del genere non mi metto a fare questo discorso per tutta quanta la figura perché non sono pazzo completamente ok così quindi andiamo ad applicare e andiamo ad applicare e quindi adesso questa parte qui è diventata di fatto una una mesh come vedete è molto 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 più densa dell'altra però pure qui se ci avete tempo sempre ragazzi discorso ottimizzazione serve veramente questo dettaglio qui no è una palla ragazzi lo so uno magari si aspetta una cosa super divertente super super figa da fare lo so lo so però se non fai queste cose qui poi il progetto rischia di pesare molto poi è chiaro che se te devi fare semplicemente un'immagine così per partecipare a un concorso la gente vede il rendering e nemmeno lo sa che cosa c'era cosa c'era prima quindi sti cazzi però insomma se devi inserirle in un progetto o in un gioco peggio mi sento bisogna sempre stare un attimino attenti a a come ci si muove ok tac 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 tra poco dovrebbe uscire anche un video che voglio fare in collaborazione con raw 3d dove parleremo proprio di tutte le tecniche per mi sa che già avevo detto a sta cosa non mi ricordo questo è un periodo un po' strano ragazzi tantissime cose per la testa e quando dico tantissime leggete proprio tantissime ecco qua comunque parleremo dei trucchetti che si adottano nel mondo dei videogiochi per farvi sembrare tutto fighissimo super dettagliato e poi in realtà ci sono quattro cazzate in croce e questo è uno di quei trucchetti per l'appunto quando mi trovo di fronte a questi loop che sostanzialmente raccontano una forma dritta io non ho assolutamente bisogno di loro devono morire tutti tutti eh? ok è inutile che andiamo avanti con questa storia perché tanto l'avete l'avete già capita shade smooth vedete cioè una volta che abbiamo ammorbidito l'ombra il fatto che qui ci siano pochi poligoni ma chi cazzo la nota non la nota nessuno questa parte della mesh è quasi uguale all'altra praticamente andiamo ad applicare anche qui applica e applica applica e applica anche qui shade smooth non stiamo a a spenderci troppo troppo tempo ok vedete qui cosa è successo andando ad innestare la nostra mesh qui si è creata questa strana parte però sono tutti quadrati quindi va bene non si è non si è generato il caos qui andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima quindi selezioniamo queste facce le togliamo prendiamo questa roba chi e la ingrandiamo un pelo così prendiamo anche questo e facciamo più o meno la stessa identica cosa visualizziamo le facce le selezioniamo le cancelliamo e qui lasciamo aperto ok perfetto direi che ci siamo dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima nel senso che adesso che c'è una mesh seleziono tutto vado qui controllo sempre apro sempre la la tabella UV faccio unwrap smart UV project ti prego non mi fare cagate benissimo oh 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 ecco la cacata signori la vedete la cacata sapevo che mi avrebbe fatto qualche cacata del genere e infatti non ha mancato di cacare bene come si risolve questa questa brutta situazione qui io farei una cosa molto 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 semplice molto molto stupida in realtà e questa cosa è questa spenderei qualche istante a selezionare queste queste parti ok così ok ottimo e capirei un attimino dove ci troviamo ci troviamo ovviamente qui perché la parte che overlappa la parte di sotto bene facciamo così vediamo se funziona creiamo un mark sim da questa parte e poi creiamo un altro che cosa ho fatto sostanzialmente ho provato perché non so se funzionerà mi ha fatto questa bastardata è stato bastardo il software però siccome potrebbe capitare pure a voi allora io sto selezionando questo loop l'abbiamo fatto già altre volte lungo tutto il percorso ok e voglio creare un taglio qui sim vuol dire che quando blender farà il suon wrap considererà che io qui ho fatto un taglio potremmo farlo anche un po' più indietro magari qui per sicurezza mark sim e poi voglio fare un altro taglietto magari qua sotto che si vede meno per far capire a blender che può aprire questo tentacolo come fosse proprio un foglio di carta mark sim altro taglio ok quindi abbiamo un taglio qui circolare un taglio sotto e un altro taglio circolare che significa che blender questo nostro tentacolo lo può proprio aprire ok facciamo tutto e andiamo di smart uv project avete visto come è andata? sicuramente meglio grazie a questo taglio blender ha avuto lo spazio diciamo così l'abilità di prendere quella parte problematica staccarla da tutto il resto perché l'ho tagliata via e adesso siamo siamo a cavallo ok vediamo come va con quest'altro robo anche questo mi fa una paura fottuta anche perché non l'ho ottimizzato troppo bene ci sono un sacco di poligoni in giro tipo qua vedete è la fiera della la fiera del poligono inutile qua sotto fatemi di togliere almeno questi qua guarda che è vergognoso avere tutta sta geometria no questo andava bene questi proprio dritti devo togliere dai coglioni geometria buttata alle ortiche proprio in tutto e per tutto ok abbiamo perso giusto un po' di curvatura ma non ce ne frega assolutamente niente va benissimo ok selezioniamo tutto abbiamo creato un buchetto qui alla fine e vediamo cosa succede con lo smart UV project non mi pare di vedere incasinamenti aumentiamo anche un po' la distanza qua sotto mentre fai la la UV esce questa questa finestrina di con delle opzioni island margin ti dice praticamente quanto farà distanti una dall'altra le varie isolette i vari ritagli in questo caso 10 ci va più che bene così è un po' più ordinato il progetto perché altrimenti sono proprio attaccate vedete sono appiccicate con un 10 ma anche con un 0 0,5 in realtà pure meno giusto per non fare una cosa troppo ammassata e ci siamo ora ora non ho paura di nulla non ho paura proprio di niente abbiamo la nostra testa abbiamo il nostro picciolo abbiamo le nostre zampettine allegre dobbiamo soltanto andare a preoccuparci dei vari materiali e io direi di iniziare proprio da questa bella capoccia di zucca perché è la parte più interessante fino a prova contraria giusto per perché insomma secondo me ci sta origine del mondo una cosa importante ragazzi vedete che adesso c'è questo questa cosa qui questo cursore quello è il cursore che serve a fare praticamente tutto in blender è una delle ultime cose che ho imparato a padroneggiare ma non appena ho imparato a padroneggiarla mi sono detto te sei uno stronzo Mario tu dovevi studiare seriamente quel cazzo di cursore ma non per due giorni tre giorni dovevi studiare seriamente quel cursore per un'ora il primo giorno che hai aperto blender e non avresti bestemmiato la madonna di continuo non l'avresti fatto perché? perché quel cursore è la vita cioè ti aiuta a spostare gli oggetti dove vuoi tu ti aiuta a dare dei punti di riferimento nel progetto ti aiuta a fare tutto e il tasto magico è shift s da qui noi possiamo piazzare il cursore dove vogliamo o imparentare alcuni oggetti che magari abbiamo appena selezionato con quel cursore puoi fare tutto poi la descrizione vi dirà di che cosa si tratta in questo caso io voglio ripristinare la posizione del cursore all'origine del mondo e l'ho messo qui vedete? perché l'ho messo lì? perché adesso io andrò a caricare una luce e voglio che la luce sia esattamente dentro la zucca siccome la zucca l'ho generata cioè la nostra palla l'ho generata al centro del nostro progetto se io faccio così e mi creo una lucetta importo una luce questa verrà generata dentro la nostra zucca è matematica mettiamo una bella lucetta calda un po' da da candle aumentiamo un po' la power così bella ok mo vogliamo andare a fare un po' di materiali sulla nostra zucca certo ma prima c'è da fare un piccolo test vi ricordate che cosa abbiamo fatto con la nostra zucca per creare lo spessore e la parte interna che non sembrasse quindi una zucca di carta velina abbiamo estruso verso l'interno la zucca questo significa però che noi abbiamo ribaltato questa povera zucca come un guanto come facciamo a sapere se il verso di questa nostra mesh è giusta è giusto oppure se l'abbiamo ribaltata io credo che l'abbiamo ribaltata onestamente però andiamo qui sugli overlays e andiamo ad attivare questo indicatore qui face orientation oh vedete che tutto è azzurro ma c'è un elemento che è rosso oh l'elemento rosso vuol dire che qualsiasi cosa noi andremo a disegnare a fare su questa mesh perché noi ci vogliamo colorare sopra eh vogliamo disegnare sulla mesh non funzionerà non funzionerà perché è ribaltata e come si fa questa cosa qui come si risolve andiamo in non object ma in modalità edit selezioniamo la parte che ci interessa flippare in questo caso a me interessa flippare tutto perché è tutto rivoltato f3 cerchiamo flip normals ok e adesso la nostra mesh è tutta perfetta non c'è nulla che sia ribaltato tutto va perfettamente secondo i piani vi faccio vedere una cosa guardate qui capite cosa era successo prima? vi ricordate che qui abbiamo sfondato queste mesh? ecco l'interno della mesh è rosso l'esterno è blu e quello che vogliamo noi quando modelliamo è questo cioè una mesh tutta bella azzurra perché siamo sicuri che possiamo lavorarci alla grande ok togliamo questo phase orientation ora che siamo sicuri che tutto funzioni per il verso giusto e andiamo a lavorare un pochino sul materiale della nostra zucca apriamo un'altra finestrella qui a sinistra e ci andiamo ad aprire lo shader editor oh e qui si apre il baso di Pandora pure questa è una cosa che ho un po' snobbato via per un po' di tempo ovvero l'utilizzo dei nodi l'utilizzo dei nodi a me sembrava una cosa estremamente noiosa e poi io all'inizio dicevo no vabbè ma tanto io voglio fare più che altro un po' di modellazione non me ne frega niente dei materiali e poi ho capito come diceva anche Aristotele che invece il cazzo non è così è una delle cose più affascinanti in realtà del fare 3D soprattutto se fai un 3D come quello che piace a me cioè con pochi poligoni ma con molto effetto allora per prima cosa dobbiamo considerare che la nostra zucca deve avere un colore di base noi adesso qui e ve lo ingrandisco così si vede meglio gli abbiamo assegnato questo colore qui un base color come come potete tranquillamente vedere a occhio nudo ma il colore di base io glielo vorrei dare con un'immagine sulla quale possiamo dipingere così la nostra zucca è più bella più pittorica è come quella che vi ho fatto vedere io all'inizio che sembrava così tangibile così vera non vera perché è reale ma vera perché sembra di poterla un attimino toccare sembra avere un peso ok quella cosa si ottiene secondo me alla massima potenza se uno dipinge su una superficie poi sembra essere proprio un oggetto una sensazione che io adoro quando modello perché adesso a me la zucca non piace cioè siamo onesti non è è finta cioè sì magari può essere carina la forma ok però è finta è farlocca vedete che non mi dice nulla e quindi andiamo a creare un'immagine esattamente come per l'inserimento di un oggetto in blender nella nostra tab degli shader qui andiamo a fare shift a texture image texture ok dovete pensare a questa questa tab sulla sinistra come se fosse un gigantesco mixer come quelli per la musica in cui invece di entrarci la chitarra il basso la batteria la tastiera ci entrano shader e texture questo succede combinando insieme tutti questi elementi tu ottieni quello che vuoi sostanzialmente allora io andrei per gradi così non ci incasiniamo prima cosa da fare prendere questa texture e collegarla al colore di base che succede? succede che la nostra zucca diventa nera perché la nostra texture non ancora esiste io non ho ancora dato informazioni a blender gli ho detto image texture e l'ho collegato al colore di base e blender gentilmente mi risponde te sei un coglione perché mi hai detto di collegare alla mesh una texture però mica mi hai detto quale è blender come al solito ha ragione quindi dobbiamo andare qui sulla nostra texture fare nuovo e impostare una risoluzione facciamo 2k proviamo con una texture a 2k 2048 per 2048 questa texture la chiamiamo zucca madonna sto caps zucca pittura perfetto e andiamo a scegliere un colore di base immaginate che questo colore di base quando noi andiamo a creare le texture altro non è che un foglio che noi andiamo a colorare in un certo modo ma sul quale poi possiamo colorare proprio noi a manina a mano diciamo il colore base che avrà il foglio su cui dipingeremo perché noi poi possiamo dipingerlo anche tutto di bianco di blu però il foglio lo voglio arancione così mi porto avanti con il lavoro disabilitiamo il canale alfa perché questa sarà una texture completamente dipinta a mano non ci saranno trasparenze non ci sarà nulla diciamo ok guarda un po' la zucchina è tornata una zucca e questa è una texture sulla quale possiamo dipingere è questa la grande magia del cinema ora abbiamo fatto questa manovra non voglio fare altre manovre con i nodi per ora andiamo a semplicemente selezionarci gli elementi che vogliamo vedere a schermo mentre dipingiamo è chiaro che questo picciolo ci scassa la minchia è chiaro che queste zampe ci scassano la minchia quindi non le rendiamo possibili da vedere a questo qui si chiama rampicante e poi ci sono le braccia che devo togliere ok rampicante lo togliamo e rimane soltanto la testa testa sulla quale andremo a fare la nostra bella colorazione ok cambiamo modalità invece di object mode dove siamo adesso andrei a fare texture paint e dobbiamo controllare un attimino tutti gli strumenti se sono settati correttamente allora andando qui su active tool abbiamo i due materiali che abbiamo questo è esterno zucca e questo è interno zucca così non vi confondete ok come vedete se io clicco su esterno zucca mi da zucca pittura che è il colore che state già vedendo qui no già impresso nella nostra nella nostra zucca se noi andiamo su interno zucca non mi da immagini perché non l'ho ancora creata un'immagine per interno zucca quindi prima di iniziare a fare qualsiasi cosa creiamo un'altra immagine che andrà ad essere dipinta proprio all'interno semmai ci servirà questa questa pittura all'interno della zucca quindi come prima texture image texture andiamo su base color nuova texture sempre 2048 per 2048 voi forse non dovrete ripetere questa operazione io la sto facendo perché il tutorial lo sto registrando 20 minuti oggi 20 minuti domani ok questo lo chiamiamo zucca interno dipingere così ci ricordiamo che è la cosa che dobbiamo dipingere andiamo a selezionare un colore che sia abbastanza in tono con l'interno della zucca questo togliamo l'alfa diamo ok perfetto ora abbiamo tutto quello che ci serve rimettiamo tutto schermo la nostra bella zucca e andiamo a cominciare con l'esterno ora noi vogliamo velocizzare un pelino pelino questo nostro lavoro il nostro pennello in questo momento è settato su mix 50 di larghezza e forza 1 cioè il massimo della forza questi due pirulichi qui con la pennina indicano che in base alla pressione della mia penna il tratto può diventare più piccolo più grande quindi più premo più il tratto si ingrandisce stessa cosa per quanto riguarda la forza io andrei con una forza abbastanza ridicola e con una dimensione abbastanza importante per fare quello che sto per fare cioè un'ombreggiatura vado invece che su mix su darken per il momento sarebbe quasi la stessa cosa non farlo però diciamo che lo facciamo e andiamo a scegliere un un colore scuro che sia praticamente il colore molto simile alla nostra zucca quindi un colore tipo questo però lo andiamo poi a scurire molto magari lo viriamo anche un po' più sul rosso rispetto a questo vedete ora possiamo andare a dipingere sulla zucca in questo momento sto dipingendo usando il il mouse metto la forza più in alto così vedete ok in questo momento sto usando il mouse però io consiglio a tutti di usare una tavoletta grafica anche di quelle del cazzo da 50 euro ok andiamo a mettere la forza un po' bassina così e soprattutto per risparmiare tempo sempre qui nell'active tool andiamo giù fino a symmetry e attiviamo la simmetria sulla x che significa che quello che faccio da un lato faccio anche dall'altro perché tanto per il momento non si tratta di fare grande arte per il momento si tratta di fare semplicemente una sciocchissima ombreggiatura ora dobbiamo semplicemente usare lo sfumino quindi quest'altro strumento perfetto così per ammorbidire un po' il nostro lavoro quindi lo prendo dall'esterno lo sposto verso l'interno l'effetto non è male ci si può lavorare per ore però insomma il concetto non è quello questo è un piccolo tutorialino allora togliamo quest'opzione di fusione andiamo sull'item e come vedete qui possiamo schiarire un po' no? il il nostro colore vediamo facciamo una piccola prova vediamo come risulta sì c'è una schiaritura non è eccezionale ma c'è e potrebbe essere la base per la nostra prima operazione e poi andiamo a fare una cosa ancora più chiara questo è quello che abbiamo fatto ed è una colorazione abbastanza decente ora avrete sicuramente notato nella zucca che vi ho fatto vedere all'inizio che non risulta proprio così pulita così così pittorica c'è una cosina anzi ce ne sono due di di cosine a dirla a dirla tutta dobbiamo sporcare un po' la nostra la nostra zucca è imperativo che questa zucca non sia troppo troppo precisa troppo pulita ah come si fa questa cosa apriamo il nostro shader editor e qui nel colore di base vorrei aggiungere qualcosa oltre alla mia texture dipinta a mano in questo caso andrei ad aggiungere un shift a texture noise texture occhio però io non posso fare così perché così escluderei una cosa e ci lascerei soltanto il noise ok o una o l'altra esiste un altro nodo shift a lo cerchiamo si chiama mix rgb questo nodo ci permette di andare a sommare due cose diverse e di confluire poi nel colore di base quindi noi usiamo contemporaneamente la pittura che abbiamo fatto prima e il nostro noise solo che adesso il noise fa sti colori de merda perché non dobbiamo usare colore ma dobbiamo usare fattore sostanzialmente ci mostra solo la forma del noise ma su scala bianco nero e il risultato è questo che comunque non è il risultato che vogliamo noi noi vogliamo un risultato in cui il colore della zucca sia quello della zucca e il noise sia soltanto un arricchimento anche qui il problema è nell'opzione di fusione dobbiamo andare su moltiplica ok e poi aumentiamo il fattore per fondere alla perfezione questi due nodi ok togliamo un attimo il colore perché voglio capire meglio come si comporta il mio noise adesso il mio noise è questo possiamo giocare sulla scala in questo modo possiamo giocare sul dettaglio in questo modo con la roughness ci sono diversi parametri con cui possiamo giocare vediamo adesso come si presenta la nostra zucca ok vedete quanta sporcizia abbiamo messo così questa è una bella superficie questa mi piace molto con questi settaggi mi piace molto forse potremmo tentare anche di ingrandire la scala così ok adesso vi faccio vedere una cosa fichissima che è una cosa che dà un gran bel realismo a tutto guardate questa superficie come è liscia vedete non si è mai vista una zucca con questo tipo di superficie perché perché è tutta riflettente allo stesso modo cioè questa superficie che ok tu la puoi sporcare puoi fare quello che cazzo ti pare ma la guardi e fai no è liscissima si vede è troppo liscia se tu usi questa noise texture questo stesso rumore e il fattore di questo rumore lo pianti anche nella roughness cioè nel livello di opacità della superficie guardate che succede oh oh che la roughness si adatta dove ci sono le parti più scure la roughness è minore dove ci sono le parti più chiare la roughness è maggiore e quindi la zucca ha questo bellissimo materiale super figo che è veramente bellissimo è veramente bellissimo un materialone abbiamo creato possiamo anche tentare un'altra cosa che adesso vi faccio vedere allora creiamo un nuovo nodo qua sotto e lo chiamiamo bump 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 vuol dire proprio rilievo ok lo piantiamo nel nodo normal non vi sto a spiegare cos'è una normal vi basti solo sapere che qua dentro vanno a confluire tutte quelle informazioni che si traducono in dettaglio simulato cioè dei rilievi simulati è una tecnica che si usa tantissimo nei videogiochi ok guardate che succede se noi andiamo a mettere questo stesso fattore dentro l'altezza del nostro bump ok questo è senza bump andiamo ad aumentare poco poco la forza poco poco un po' di distanza in meno e abbiamo una superficie credibilissima super vera secondo me molto molto figa ok mo quello che vorrei fare è arricchire un attimino la la pittura di questa di questa superficie di di zucca ci sono delle cose che si possono fare per rendere ancora più più complessa questa questa superficie però diciamo che noi vogliamo fare un asset da da videogame quindi non dobbiamo fare cose troppo troppo complesse quello che possiamo fare è disegnare qualche piccola crepa sulla nostra zucca darken perché dobbiamo usare un colore molto scuro e andiamo a fare un piccolo pennello così ok e niente ci andiamo a disegnare qualche crepa come vi ho detto prima potrebbero esserci dei piccoli problemi di di risoluzione è molto probabile che ci siano allora prendiamo un colore scuro molto scuro quindi partiamo sempre dall'arancio che abbiamo preso prima quindi un arancio bello acceso questo qui andiamo a scurire tantissimo e questo sarà il colore con cui faremo le nostre crepe vedete il discorso risoluzione di cui vi parlavo prima è impossibile aspettarsi con una texture da 2048 una grandiosa risoluzione abbiamo questa cosa qui che non è male da una certa distanza fa pure il suo effetto in un videogioco sarebbe accettabilissima come texture e va bene ok noi andiamo a disegnare queste piccole crepe nei posti dove crediamo oh 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 a proposito ho sbagliato una roba vedete che adesso quello che disegno è stato a tutti e due i lati e no e no e no dobbiamo disattivare il mirror se no questi dettagli che devono rendere unica la nostra zucca che la devono rendere un attimino più più veritiera diventano delle farloccate perché non esiste una crepa che si ripete nello stesso identico modo da tutti e due i lati non esiste e quindi andiamo a crearci le nostre crepette così oh e tutto va alla grande facciamo proprio un collegamento tra queste due zone così crepe dappertutto crepe dappertutto la zucca è un po' incidentata però questa cosa conferisce un po' di veridicità alla nostra zuccotta piccoli danni strutturali alla zucca ok direi che l'abbiamo crepata abbastanza mettiamo magari anche qualche piccolo danno qua dietro piccole cose direi che va bene e dopo di che andiamo a fare un po' l'opposto quindi lighten andiamo a cambiare e usiamo questo arancio di base così un po' più chiaro e qui semplicemente lavoriamo nella maniera opposta consideriamo sempre questa cosa cioè la luce dovrebbe colpire la parte alta degli oggetti quindi se la luce colpisce la parte alta è da questo lato che vedremo no? un po' più di colpo di luce anche qui qua sotto vedremo la luce così in questo modo anche qui vabbè queste sono nozioni proprio base di di ombreggiatura e disegno spicciolo insomma vedete? sembra abbastanza plausibile adesso questa questa macchietta su questi cosini qua basta mettere davvero una punta di di chiaro per dare veridicità non ci vuole non ci vuole un genio ok in queste zone io direi di andare ancora più chiari che dobbiamo fare ecco qui un po' a botte con la zona che è già molto luminosa di per sé io qui ho cambiato un po' approccio perché sto colorando su una zona che è già molto bianca di per sé molto chiara quindi ok le nostre crepette le abbiamo abbiamo pressoché tutto quello che ci serve per fare una buona zucca quello che manca adesso è semplicemente il secondo materiale cioè l'interno della zucca andiamo ad aprirci il nostro shader editor queste crepe ci vanno sul materiale interno e cazzo si ci andranno in qualche modo altrimenti sembrano interrotte questa è una cosa che sulla mia zucca neanche ho fatto però con voi qui avendoci più tempo vi faccio vedere un po' come mi comporterei allora andrei andrei sul materiale interno zucca su questa texture andrei a prendermi il suo colore lo scurirei leggermente darken e andrei a proseguire la crepa ovviamente con ecco sensore di pressione che mi dà un'idea di cosa sto facendo vedete la crepa continua anche all'interno della spaccatura non deve essere una cosa super mega ultra precisa la cosa importante è che da lontano si percepisca no il continuo di quanto abbiamo fatto sopra in modo tale da averci un oggetto che sembri coerente che sembri vero qui per esempio c'è una cosa che va bene io non farei io non farei altro l'unica cosa che farei è esattamente quello che abbiamo già fatto prima cioè aggiungere una texture di noise anche qui all'interno della nostra zucca quindi facciamo un bel mix rgb così andiamo su multiply perché vogliamo tutte e due le cose andiamo a caricare una texture noise inseriamo il fattore nel secondo colore a questo punto andiamoci a scegliere la scala del nostro noise direi che questa possa andare più che bene un bel po' di roughness in più in qua dentro io schiarirei leggermente questo questo mio noise così tra l'altro la scala un po' più grandetta non mi dispiace sì e la scala poi la andiamo a mettere anche dentro il bump quindi creiamo anche qui il bump e senza stare a perdere troppo tempo a fare troppa fatica questo fattore lo mettiamo nell'altezza e subito otteniamo una polpa interna della zucca molto credibile ci mette un po' a caricare quindi abbiate pazienza ok una bella polpa interna ingrandiamo un po' questa scala facciamo zero ok così mi piace molto sto semplicemente giocando con con i parametri eh ragazzi sto solo oh sto solo giocando con i parametri nulla di nulla di più dovete fare semplicemente delle prove io vi sconsiglio pure di stare lì a copiarvi i parametri che sto usando io perché secondo me è controproducente vi divertireste molto di più a fare i vostri a fare i vostri test che a copiare più di sicuramente quello che sto facendo io divertireste molto molto di più ok così direi che ci siamo la nostra la zucchetta è abbastanza simpatica ingrandiamo un pelo così eh abbiamo due materiali uniti in maniera abbastanza decente e ci possiamo dire abbastanza soddisfatti accendiamo il nostro picciolo in questo modo torniamo a object mode e occupiamoci di fare anche in questo caso un po' di di texture per questo picciolo potremmo anche evitare di dipingere secondo me proviamo a adoperare soltanto i materiali quindi nuovo materiale lo chiamiamo picciolo che poi lo useremo anche per i rametti in basso base color un bel verde un po' acidognolo lo farei sì specularità bene togliamo magari un pelino però diciamo che così va pure va pure abbastanza bene shader editor perfetto stessa cosa di prima ragazzi senza neanche mezzo mezzo problema andiamo di mix rgb vogliamo sporcarlo un po' quindi il colore uno vi spiego l'ho colorato prima sbagliando perché non dovevo colorarlo devo colorarlo adesso mettendo il mix noi abbiamo la possibilità di impostare il colore da qui colore del nostro multiply abbiamo il colore del nostro picciolo lo possiamo impostare da qui molto molto semplicemente in questo modo ok e poi carichiamo una noise texture vedete il suo noise torna torna sempre ma perché perché ti dà la possibilità di arricchire di fare qualcosa di di meno statico di meno di meno finto anche se poi è fintissimo di per sé anche qui andrei ad usare la nostra roughness e infilerei il nostro fattore anche dentro il bump in questo modo ovviamente sono fattori diversi sono potenze diverse non tutto è uguale perché noi lavoriamo in maniera così variabile con le nostre cosine io direi che abbiamo ottenuto un ottimo risultato già adesso andrei soltanto a virare un po' di più questo sul giallo così lo scurirei un pelo pelino e già abbiamo fatto una cosa molto molto simpatica stessa cosa io direi di fare con le nostre braccia quindi assegniamo a queste braccia lo stesso identico materiale e direi che ci siamo va bene e adesso possiamo creare una copia di questo materiale attenzione qui voglio creare una copia di questo materiale per metterla sui rampicanti qua intorno perché faccio una copia e non attacco lo stesso materiale adesso vi faccio vedere rampicante ci mettiamo questo e premiamo qui new material copiato da questo e chiamiamo rampicante piccolo quando io vado ad aprirmi il mio shader editor come potete vedere posso andare a modificare il colore solo di questa parte qui vedete adesso lo posso scurire spostare posso fare tutto quello che mi pare in questo caso posso anche usare un un marrone magari posso fare veramente quello che mi pare oppure usare un verde più più chiaro più brillante a seconda di come volete di come volete ragionare cioè veramente è tutto sta tutto a voi è tutto nella vostra nella vostra fantasia nelle vostre mani ecco per esempio questo verde più scuro a me non dispiace fa un ottimo effetto potremmo anche abbassare la specularità in questo modo ok e tutti questi materiali sono fatti adesso ci resta soltanto da fare le foglie ora nel mio progetto ho fatto una sola foglia e con quella sola foglia ho fatto tutto proprio ho fatto il super pigro direi che a sto giro potremmo fare anche due tipi diversi di foglia giusto per dare più movimento al progetto allora come si fa questa cosa innanzitutto mi tolgo dalle scatole tutta questa roba qui la roba che non voglio vedere e mi vado a importare un nuovo plane ora lo sposto in alto così e da questo plane io mi vado a ricavare le mie foglioline non voglio riempire di oggetti questo questo nostro progetto però i pochi oggetti che ci sono devono essere un minimo carini insomma quella è l'idea che ho quindi da questo nostro plane andiamo subito a creare una texture un materiale innanzitutto nuovo materiale questo lo chiamiamo foglia foglia come vuoi chiamarlo nome e cognome foglia rossi no foglia shader editor e andiamo subito a piantare una texture sulla nostra fogliolina quindi shift A come al solito texture image texture e andiamo a creare una nuova texture 2048 per 2048 la chiamiamo questa qui foglia alfa e disattiviamo il canale alfa vi spiego cosa sto facendo adesso sto creando diciamo così il il profilo della foglia la forma della foglia perché perché se noi dovessimo modellare la foglia pezzo per pezzo dovremmo fare tantissimi poligoni verrebbe fuori una roba densissima se volessimo disegnare la foglia in maniera poligonale invece quello che vogliamo fare noi è usare una due tre poche facce diciamo così molto poche sulle quali andiamo a disegnare una foglia e tutto ciò che non è disegnato poi diventa trasparenza quindi non c'è veramente la sagoma della foglia è un normalissimo quadrato un normalissimo rettangolo sul quale abbiamo disegnato la foglia lasciando attiva la trasparenza quindi quello che faccio adesso non è altro che creare sì la silhouette della foglia per insegnare a blender cosa voglio che sia trasparente e cosa no mettiamo ok e colleghiamo questa texture al colore di base ovviamente adesso è tutto total black cioè dove c'è il nero blender sa che deve andare a mettere la trasparenza dove ci sarà il bianco blender invece andrà a considerare un'opacità del materiale quindi tanto per cominciare io mi andrei a fare texture paint sempre qui con il materiale selezionato e con la texture foglia selezionata e andiamo a dipingere con il bianco ovviamente che non scrive perché siamo in dark e dobbiamo mettere mix e dobbiamo mettere il bianco ovviamente scusatemi ragazzi qui si perde si perde la via in un attimo perfetto eccoci qui allora cominciamo a fare la nostra foglia innanzitutto ci serve un po' di gambo questo è importantissimo il gambo è importantissimo ora che abbiamo fatto questo semplicemente lo stacchiamo dal base color ed entriamo qui dentro alfa questo che cosa comporta? comporta che si attiva la trasparenza come dite non si è attivata una sega bene dobbiamo andare sul materiale che abbiamo creato e qua sotto quindi e andare su alfa hashed e anche sulle ombre andiamo in alfa hashed vedete? Blender ha fatto esattamente quello che noi gli abbiamo chiesto cioè ha realizzato un ritaglio automatico di quello che era la nostra foglia andiamo a duplicarci questa texture la mettiamo qua sopra su base color e adesso togliamo la texture che abbiamo realizzato prima e andiamo ad importare una nuova texture sempre di questa grandezza la chiamiamo foglia color e la base gliela facciamo già che ci siamo ci portiamo avanti verde qui dobbiamo calcolare l'alfa ok eheee eheee a posto eh? non male e adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima con con la nostra zucca cioè dobbiamo andare a colorare un minimo io sono stato molto approssimativo e nel mio progetto lo sarò altrettanto qui ve lo assicuro non voglio perderci 45 anni però sapete come funziona così ora questa foglia è un attimino troppo rigidina per i miei gusti quindi andiamo a prendere un mix RGB andiamo con il nostro colore sempre in multiply e poi proviamo altre opzioni di fusione a sto giro allora andiamo a importare una noise texture e vediamo come va questa è una cosa che nel mio progetto non ho fatto però qui potrebbe effettivamente andare a impreziosire non poco il nostro effetto globale ok forse una trama un po' più spessa come questa qui non sarebbe male giocate con con questi comandi mi raccomando cominciamo a provare sto provando diverse opzioni di fusione vediamo se c'è qualcosa che ci convince questo è molto figo così e infatti e lo becchi subito lo becchi subito ti innamori no? questo penso che sia il modo migliore di tirar su la fogliolina perfetto con questa bella foglia appena creata possiamo andare a fare una roba selezioniamo la nostra la nostra faccia il nostro poligono e cominciamo a dividerlo non tanto allora facciamo prima un loop al centro quindi ctrl r qui al centro e poi sempre tenendolo selezionato questo loop facciamo ctrl b che vuol dire bevel per andarci ad allargare ecco qui oltre la foglia a questo punto questa faccia che ho creato e questa faccia che ho creato x e scompaiono perché non ci servono andiamo a dividere adesso con ctrl r anche nel senso della lunghezza facciamo un loop al centro e tenendolo selezionato senza confermare col tasto sinistro con la rotellina del mouse facciamo qualche hop qualche altro loop facciamo la stessa cosa di nuovo al centro e adesso dividiamo anche questo e questo questi due loop che abbiamo creato qui possono essere selezionati entrambi e mossi verso l'alto in questo modo e poi ctrl b aggiungiamo un segmentino vedete che succede c'è questa cosa che abbiamo la forma di una foglia ora piantiamoci qui guardiamo la foglia di lato e con il proportional editing attivo andiamo a effettuare una piegatura del tutto ed eccoci qua la nostra foglia è perfettamente completata andiamo ad attivare lo shade smooth così non vediamo i poligonazzi maledetti in questo modo bene sono abbastanza soddisfatto del risultato ora cosa importante molto molto importante se vogliamo muovere questa foglia e creare diverse versioni di questa foglia noi in realtà possiamo farlo possiamo farlo ma la cosa importante è avere sempre il punto di aggancio sulla zucca perché se no diventi scemo letteralmente scemo ok selezioniamo tutto il nostro ambaradam in edit mode premiamo 1 in modo tale da avere a disposizione i punti e selezioniamo questo punto qui proprio il punto che sta sul gambo vedete ok maiuscolo S quindi shift S andiamo a piazzare il cursore sul punto che abbiamo selezionato bam a questo punto il cursore è qui andiamo in modalità oggetto e adesso questo puntino giallo che vedete fluttuare sotto la foglia sotto la soglia sotto la foglia che al momento è l'origine della foglia lo dobbiamo spostare quindi facciamo oggetto destro set origin to 3D cursor quindi ho spostato il 3D cursor su questo punto solo per dirottarmi l'origine a questo punto shift S facciamo tornare il cursore all'origine del mondo ma abbiamo ottenuto questo effetto che adesso quando muovo la foglia o la ruoto la ruoto intorno a quel punto lì di origine e questa signori è la soluzione a tutto la palacea proprio apriamoci la zucchetta come vedete la foglia è un po' sovradimensionata c'è un po' di problemi di gigantismo questa foglia però adesso risolviamo tutto in un lampo innanzitutto mi creo più istanze di questa di questa fogliolina ne faccio shift D shift D shift D shift D shift D ok ho tante foglie pronte pronte da spostare allora vado sulla mia zucca prima di tutto voglio piazzare una bella foglia qui alla fine di questo picciolo uso questo strumento che utilissimo che all'inizio non usavo e lo strumento cursor clicco qui e automaticamente il mio software mi piazza a questo punto me lo piazza sulla mesh vedete si attacca proprio alla superficie con questo sistema io andando di nuovo con il select box attenzione mi seleziono questo oggetto shift S cursor to selected scusatemi selection to cursor che è la cosa inversa cioè la selezione che ho fatto io bam vedete si è attaccato in automatico non devo fare altro che premere R ruotare sull'asse Z in questo modo e poi andarmi a sistemare la foglia come meglio credo anche ruotando a mano non è assolutamente un problema anzi una bella rotazione a manina che fa tutto più bello se no usiamo i punti ok il risultato che abbiamo ottenuto è il seguente foglia attaccata al picciolo e niente andiamo avanti così con questa stessa tecnica adesso l'ho fatto molto lentamente vi ho spiegato bene bene tutto quanto ma insomma cursore selezione foglia selection to cursor rotazione e scala boh andiamo a fare un'altra robina tipo qui cursore selezione foglia selection to cursor così rotazione scala e aggiustamento vedete qui magari ci sta anche un pochino più grande la fogliolina così è più bella e andiamo avanti così per 25.000 ore ok ho piazzato foglie in giro per 6.000 anni basta così cioè nel senso voi fate come vi pare mettetece ne 100.000 20.000 come volete però adesso io direi di andare a fare un'altra un'altra robina per concludere il progetto comunque finora tutto quello che abbiamo fatto è esattamente quello che ho fatto nel mio progetto con alcune differenze ho aggiunto insomma un po' di dettagli in più anche la foglia l'ho curata un pochino di più però sostanzialmente è tutto qui questi sono i procedimenti variano i toni di colore potresti usarli di più carichi di più scarichi cambiare completamente l'approccio cambiare la posizione dei tentacoloni però diciamo che adesso giusto per dare una degna conclusione al progetto possiamo creare un'altra un'altra foglia e vedere di evolvere il tutto in una direzione diciamo così finale già così non è non è bruttissima la la zucchetta anzi poggiandola su un piano sicuramente risulterebbe più più carina però noi siamo sadici e la teniamo così sospesa nel nulla cosmico diciamo che possiamo fare una cosa no selezioniamoci un nuovo piano in questo modo lo andiamo a spostare un po' più in alto qui e con questo secondo piano noi andiamo a creare un altro materiale lo chiamiamo foglie base oh foglie base vediamo vediamo un attimo potremmo creare anche un tipo di di foglia completamente completamente diversa tipo un mega quadrifoglione una mega insalata non lo so comunque tutte queste foglioline qui io direi che adesso comincia a farsi un po' di confusione facciamo così creiamo una collection e ci mettiamo dentro le foglie quando avrete fatto tutto il discorso foglie avrete una tonnellata di di plane in giro per la vostra per il vostro progetto e vorrete fare pulizia ve lo garantisco vorrete fare pulizia questo è foglia 2 ok questi qua invece tutti questi plane vanno qua dentro se no non si capisce una sega ma proprio niente 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 questo anche questo plane va dentro foglie ecco qui e foglia 2 invece è il nostro plane qua sopra siate ordinati io non lo sono stato scusatemi però non era un tutorial sull'ordine era un tutorial sulla zucca di sinergo allora trattiamo esattamente allo stesso modo anche questo quindi adesso non vi sto a spiegare niente lo faccio e basta ok ho finito anche questa seconda foglia e adesso facciamo lo stesso discorso di prima cioè ci peschiamo questo punto andiamo così a spostare il nostro cursore sul selezionato poi modalità oggetto destro set origin to 3d cursor e poi ripristiniamo il nostro 3d cursor al centro del mondo così non ci incasiniamo ma nel frattempo abbiamo la nostra bella foglia che ha un'origine oddio questo materiale è un po' troppo speculare mi pare a me così così va benissimo allora duplichiamo shift d rotazione sull'asse z di quanto vogliamo fare beh dai forse possiamo fare un po' di tipo trifoglio una cosa tipo così shift d rotazione sull'asse z ed eccoci qui ma abbiamo fatto proprio l'insalata raga questa è proprio l'insalata secco è lei comunque questa bella insalatina che abbiamo fatto andiamo a joinare quindi selezioniamo tutto magari rotiamo un attimino questo che si può correggere così è più armonica questa così voglio fare queste foglie abbastanza equidistanti non che sia un vero problema però ecco facciamo join selezioniamo tutto facciamo join adesso questa è un'unica mesh e facciamo questo discorso ovvero selezioniamo shift d spostiamo verso l'alto in questo modo e rimpiccioliamo rimpiccioliamo sempre lungo il centro una roba tipo così occhio perché possiamo anche per variare andare a usare vedete il nostro proportional editing muovere un po' questi questi vertici che stanno in giro questa è una cosa che nel progetto di qui sopra non ho fatto e un po' adesso mi dispiace perché effettivamente questa è una di quelle cose che danno molta più vita a un progetto del genere lo rendono un po' più più veritiero più organico però non si può fare sempre tutto ok e questo lo andiamo a ruotare così abbiamo creato questo questo casino di roba duplichiamo scusatemi facciamo join quindi anche questo duplichiamo mettiamo da parte questa roba qui adesso lo andiamo ad attaccare giusto qua sotto alla base della nostra piantina shift selection to cursor ed eccolo qua non male però ovviamente dobbiamo spostarlo dove è meglio che stia quindi tipo qui così che la nostra zucca se ne può stare sul suo letto di foglie lo possiamo rimpicciolire giusto un pelo portarlo un po' in su e la zucchina se ne sta lì che galleggia questo perché me lo sono tenuto me lo sono tenuto perché lo potremmo duplicare e usare come integrazione in alcuni punti in cui vediamo che questi rametti sono un po' un po' vuoti quindi andiamo qua sopra selection to cursor rimpiccioliamo tantissimo ed ecco che abbiamo creato queste specie di piccoli fiorellini che potete piazzarli dove volete a dimensione che volete insomma io mi sono mosso così con la mia con la mia zucca va bene direi che abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questa nostra zucca carina andiamo a vederla ecco con il motorino di rendering con Eevee noi ci vediamo al prossimo video questo è stato il nostro primo grande tutorial spero di essere stato chiaro esaustivo e tutto il resto e fatemi sapere nei commenti che ci vediamo